E anche stasera c'è qualcuno davanti alle telecamere. Beh ma adesso gag a parte, loro sono ritornati a grandissima richiesta e li accolgo con l'applauso dell'Auditorium Rai di Napoli Francesco Paolo Antoni e Gabriele Cirilli! Grazie, sono qua di nuovo, ci avete preso gusto voi. Onorati di essere qui a partecipare alla finale di questo programma che dà una nobiltà all'arte di strada e una speranza agli artisti di strada. Programma condotto da un grande condottiero! Grazie! Grazie di essere qui di nuovo perché è stata una grande richiesta e loro sono parte integrante di questo show, ci divertono e aggiungo grazie. Stasera votiamo anche noi, ho saputo. Sì, ma mi stai rubando, lo dovevo dire? Ti hai rubato la battuta? Non lo dovevo dire. No, no, è perfetto quello che dici. Non puoi dire queste gol, maestro. Ragazzi, a me l'attenzione. Grazie. Grazie. Grazie.